Bella ragà! Il vostro San Ten Chan vi ha promesso delle rivelazioni esplosive dopo Pasquetta. E San Ten Chan mantiene la sua parola. Già da mesi, mi hanno chiesto di avere delle informazioni circa la vera identità di Mr. Flame. Ebbene, neanche David Rubino è riuscito a ottenere la sua vera identità. Hanno tutti fallito, ma la vera foto di Mr. Flame ce l'ho io. E allora preparatevi allo scoop, all'esclusiva, perché in anteprima mondiale... Voi vedrete la foto di Mr. Flame, che io gli ho scattato una foto quando è sceso di casa. Conoscete per la prima volta il vero volto che si nasconde dietro la maschera di Mr. Flame. Quindi preparatevi per la rivelazione. Perché è un qualche cosa che non vedrete in altri video. E che dovrete vedere prima che questo video sia cancellato. Perché Mr. Flame ha amici molto importanti. Preparatevi dunque a questa rivelazione esplosiva. Ecco la foto di Mr. Flame. Mr. Flame. San Ten Chan. Ebbene sì. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Mr. Flame. H. San Ten Chan. Bella ragazzi. A voi l'ardua sentenza. Ma a me la suave certezza. Ecco la foto di Mr. Flame. L'uomo ignoto che si nasconde dietro una maschera. Ebbene sì. San Ten Chan. San Ten Chan. Parrebbe avere un secondo canale. Molto più fortunato. E' lui Mr. Flame. Capito. Tutti volevano vedere la vera faccia di Mr. Flame. Tutti ne volevano conoscere il nome. E adesso tutti hanno visto che è Mr. Flame. Perché io ne ho fatto vedere in anteprima mondiale qui sul mio canale di YouTube. Che è Mr. Flame? Eccolo qua. Foah! 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 Ho! Dio! E mi raccomando. Rifegate questo video. Tutti debbano conoscere chi è Mr. Flame. Ciao dal vostro santo inciana.